Inizia la campagna elettorale in vista delle amministrative del prossimo anno per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco di Licata. Partiti e movimenti in fermento. Esce allo scoperto il gruppo Noi che dovrebbe sostenere la candidatura a Sindaco di Angelo Cambiano, ex vice del dimissionario Angelo Balsamo e suo alter ego. Il gruppo Noi ha avuto modo di scambiare idee con vecchi e nuovi amici, si legge in una pagina sui social che è stata creata appositamente. Si è cercato di parlare dei precari, ovvero che un amministratore della cosa pubblica deve prima cercare di regolarizzare queste persone piuttosto che accrescere uno stipendio da favola a qualche dirigente comunale. La dignità delle persone al primo posto rispetto agli interessi del singolo. Si è parlato anche del famoso nodo sollevato da Angelo Cambiano, cioè l'affidamento di immobili comunali a favore di associazioni o presuntetali per l'apertura di altri centri per disabili mentali. Non si può assolutamente permettere, si legge nella nota di Noi, che sfruttando situazioni poco chiare venga caricato economicamente per molti anni il Comune con i soldi dei contribuenti. Per finire si è parlato di programmazione futura. Il gruppo Noi includerà nel proprio programma la volontà di risolvere i misteri delle tante patologie tumorali della nostra città. Si andrà avanti al fine di rispondere ai tanti quesiti e domande che tanti ricatesi si fanno. Infine, sarete informati a breve di un incontro con la cittadinanza che proporremo prima delle festività. Noi stiamo continuando a progettare un futuro per questa città. E quindi, ogni giorno vengono pubblicate pillole di operazione verità sulla gestione del Comune. È giusto che la gente sappia, è diventato un appuntamento fisso. È giusto che la gente sappia, si legge nelle posti di oggi, che in questi giorni alcune pseudo-associazioni stanno chiedendo ai commissari straordinari di avere immobili comunali per l'apertura di altri centri per disabili psichici, tenendo presente che è un'azione del genere che raverebbe di molto le casse comunali che dovrebbero sborsare all'associazione 2.500 euro al mese per ogni disabile psichico. Questo tipo di raggiro mascherato da solidarietà produce business per pochi e rende l'ente comune debole e privo di fondi, attingendo ai soldi dei cittadini che potrebbero essere spesi per problematiche che ne godrebbe l'intera comunità. Anche se siamo sicuri che chi dovere non potrà avallare una tale sorta di richiesta, informiamo i ligatesi che hanno a cuore il bene della città di diffidare di alcuni figuri politici e pseudopolitici, nonché di gente influente vicina alla politica. Questa non è politica, questo è un losco business, un raggiro che mortifica la città. Non sventiamo l'icata a nessuno. È giusto che la gente sappia ancora che alcuni dirigenti comunali stanno per essere premiati con altri soldi, oltre al loro regolare stipendio. Alcuni di loro si rivolgono al commissario straordinario nell'attesa di sublimare la loro posizione con altre cariche e ruoli speciali. Il gruppo Noi prende le distanze da tutto ciò. Pensiamo che i soldi invece che ha dirigenti servano per regolarizzare i precari. Siamo vicini a questa problematica. Diamo dignità ai precari. Infine una pennellata sul leader indiscusso. Angelo Balsamo è stato ispiratore di tanti uomini e donne che, trascinati dal suo entusiasmo e voglia di fare, ci hanno messo la faccia e continuano a mettercela. Da squadra dirigente si è dimostrato che veramente, seguendo un programma, si possono raggiungere obiettivi mai visti in questa città. Questo è il gruppo Noi. Siamo i tanti che non ci pieghiamo davanti alle difficoltà e propositivi che vedono un futuro migliore per questa città. Quelli senza soggezione, che non si nascondono dietro al dito. Siamo quelli che non ci piegheremo mai alla politica del favorino personale, né tantomeno a quella del business a tutti i costi. Noi siamo stati e saremo trasparenti, non cercando il bene del singolo, ma della collettività. Siamo arrabbiati per le ingiustizie e per l'ipocrisia. Chi non crede in questa città e la mortifica con Manfrina e Raggiri non fa per noi. Andremo avanti a continuare a progettare un futuro per questa città.